Finalmente oggi è lunedì, come vedete cerchiamo di ripartire ma con molte difficoltà, potete immaginare. Abruzzo, zona gialla, anche bar e ristoranti possono riaprire, molti però decidono di non farlo. Animare un'attività infatti a costi che non si è sicuri di riuscire a coprire. È l'incertezza che ci danneggia, dicono gli esercenti. Non abbiamo la certezza e la serenità di poter lavorare come vogliamo lavorare noi. Se devo riaprire comunque il ristorante, devo fare comunque un investimento di rifornitura tra bevande e materia prima e se non ho la certezza di poter stare aperto per almeno un mese, un mese e mezzo, due mesi, con la serenità, la tranquillità di poter lavorare, è una spesa inutile che ci risparmiamo semplicemente. Le spese, i fornitori, tutto quello che serve per iniziare a ripartire un'attività, poi si lavora due o tre giorni, poi si sta fermi. Questo lavorare a singhiozzo è molto penalizzante. Come avete dipendente in cassa integrazione? Sì, al momento ce ne abbiamo quasi tutti, tranne un pizzaiolo che viene qua dal giovedì alla domenica per fare le pizze per l'asporto e tutti gli altri sono in cassa integrazione. Ai ristoratori non conviene la riapertura, che tra l'altro causa coprifuoco, sarebbe limitata al pranzo. Stessa cosa per i bar, specie quelli abituati a fare cocktail piuttosto che cappuccini, per cui rimane l'obbligo di chiusura alle 18. Abituati che io inizio a lavorare dopo cena, immagina tu. Intanto qualche ristoro è arrivato, come quello per la chiusura autunnale, ma si è ancora in attesa di quello del periodo natalizio. Ad ogni modo baristi e ristoratori sono concordi, il risarcimento non è sufficiente. Sono arrivate le prime cifre verso inizi novembre, se non mi sbaglio, anche se è una cifra diciamo abbastanza ridicola. Poi non è più arrivato niente, ci sono stati altri rimborsi che hanno detto che facevano, il 90% sulla filiera italiana, che però ancora si vede, ancora arriva niente. Qualche ristorante è arrivato, ma se pensiamo che in un anno noi bar e ristoratori abbiamo lavorato forse nemmeno cinque mesi, capisci bene che quello che ci è arrivato non basta nemmeno a pagare un mese e mezzo di lavoro. E se la zona gialla, seppur per un breve periodo, dovrebbe essere una boccata di ossigeno, almeno ci facessero lavorare anche di sera? E questa è la richiesta che arriva da bar e ristoranti. Siamo abbandonati noi stessi e aspettiamo che dobbiamo fare. Questa è l'unica cosa da fare.